Buon pomeriggio a tutti, scusate il ritardo, ero in un'altra riunione. Saluto tutti i dipendenti dall'Italia, i dipendenti da MS, con i quali stiamo iniziando a lavorare assieme. Ci sono consiglieri comunali di Fiumicino, c'è il presidente Di Maio, c'è Gianluca Vacca, insomma siamo in tanti oggi. Per quanto riguarda i privilegi del ministro Lupi, se volete ve ne posso elencare qualcuno, e l'ex ministro Lupi, uno su tutti, al di là di vitalizi, stipendi, rimborsi elettorali, non so se sapete che il nuovo centrodestra è al governo, pur vantando tra le sue fila circa il 33% di parlamentari con dei guai con la giustizia. E' un terzo dei parlamentari del nuovo centrodestra dati alla mano appunto a dei guai con la giustizia e siamo tuttora in attesa che si possa votare in Senato della Repubblica l'arresto di un componente di nuovo centrodestra che si chiama Bilardi, per il quale la magistratura ha chiesto appunto l'arresto per spese pazze, ovvero peculato, appropriazione in debita di denaro pubblico per scopi privatistici. Purtroppo questo è il partito che sta attualmente ricattando politicamente il presidente del Consiglio Renzi. Vi volevo, io non mi occupo direttamente di trasporti, mi sono avvicinato alle problematiche di Alitalia, essenzialmente appoggiando le lotte di AMS. Abbiamo preso io e Paolo a cuore la battaglia di lavoratori competenti, lavoratori davvero estremamente capaci nel loro lavoro. I dipendenti AMS sono coloro che riparano i motori di Alitalia, mettono anche quel bollino di garanzia per cui se si viaggia su aerei sicuri è appunto grazie alle straordinarie competenze dei dipendenti di AMS e conoscendo le loro problematiche, dedicandomi in precedenza anche grazie al deputato Vacca alle problematiche relative alla scuola pubblica e studiando le innovazioni, le proposte del governo contenute nella buona scuola oppure precedentemente e anzi in questi giorni occupandosi delle problematiche relative alla legge di stabilità connesse ai tagli del sistema sanitario. Precedentemente occupandoci di Atac, un'azienda che qui a Roma è sostanzialmente fallita, abbiamo capito in generale, e questo è anche avvenuto con Alitalia, qual è poi la direzione alla linea scelta da parte del sistema, da parte del governo negli ultimi anni, quello appunto di colpevolizzare il pubblico facendo credere che il problema in Italia sia il pubblico to cure, ontologicamente pubblico è ontologicamente sbagliato, è sinonimo di sperpero di denari, di non funzionamento, non è così, il problema all'interno del pubblico sono stati politici corrotti che hanno piazzato i loro uomini, che hanno spolpato aziende, penso ad Atac, pensiamo ad Alitalia, pensiamo alla sanità pubblica che funziona ancora grazie a dipendenti, anche a buoni dirigenti, a medici, a infermieri, a personale, e non funziona perché quando la politica ci ha messo la mano si è finiti a dover sciogliere un ospedale, come è successo a Caserta qualche settimana fa per Camorra, un ospedale in Italia appunto in provincia di Caserta è stato sciolto per Camorra, oppure si è scoperto qualche settimana fa che il vicepresidente della regione Lombardia, l'eccellenza sanitaria in ambito nazionale appunto è stato arrestato per mazzette legate ai pazienti che si sottoponevano a dialisi, io sono convinto del fatto che rubare su una rotatoria sia vergognoso, ma rubare sui dipendenti di AMS, rubare sulle persone che si vanno a fare la dialisi, sull'emergenza abitativa, sugli immigrati sia da miserabili, ancora peggiore. Quello che intende il Movimento 5 Stelle come l'ira politica, come sapete da un lato certamente salva guardare l'impresa privata, se ci pensate gli stipendi che noi ci tagliamo li destiniamo alle piccole e medie imprese, ieri Luigi Di Maio è stato, ieri e l'altro ieri, in Sicilia a fare un tour tra le imprese siciliane proprio perché crediamo che in Sicilia possiamo vincere, possiamo amministrare con la regione, possiamo rilanciarla grazie ad investimenti certi per le imprese private, abbiamo anche ipotizzato la costituzione di una vera e propria banca di sviluppo che manca in Italia e che possa finanziare direttamente le imprese private, quindi figuratevi se il Movimento 5 Stelle non pensa che l'iniziativa privata e la categoria degli imprenditori non vada sostenuta. Però contestualmente pensiamo che alcuni settori politici in Italia, tra cui i grandi trasporti, i trasporti cittadini come Atac, un'azienda pubblica che dovrebbe garantire posti di lavoro e sviluppo e ricchezza come all'Italia, una compagnia di bandiera, la sanità pubblica, l'acqua pubblica, siano dei beni appunto dei cittadini e debbano essere garantiti appunto da investimenti seri sul pubblico e grazie appunto al mantenere queste aziende pubbliche, perché appartengono tutti noi, perché sono degli asset che in altri paesi, pensiamo anche alla telefonia pubblica, garantiscono enormi introiti per gli stati e quindi anche il miglioramento dei servizi per i cittadini. Qualcuno ci vuole descrivere appunto per quel che non siamo, ripeto, questo è opportuno capirlo molto molto bene, il Movimento 5 Stelle supporta moltissimo l'impresa privata ma ritiene che alcuni settori strategi debbano restare pubblici e ritiene che oggi il gioco che fa appunto il governo e pensiamo anche al disegno di legge sulla buona scuola e a come si cerca di colpevolizzare la scuola pubblica sia colpevolizzare determinati settori pubblici per far credere ai cittadini che è il pubblico e non funziona perché? Perché gli stessi coloro che hanno spolpato queste aziende pubbliche, questi grandi settori pubblici sono gli stessi pronti ad investire nel momento in cui ci sarà una vera e propria privatizzazione e questo l'abbiamo visto perfettamente nel caso di Alitalia e ci sarà se non riusciremo a fare e a vincere questa lotta insieme ai dipendenti di AMS anche rispetto a questa azienda gloriosa che ripara i motori di Alitalia. Il Movimento 5 Stelle è a sostegno appunto dei lavoratori di Alitalia, di AMS, a sostegno dell'iniziativa privata e a sostegno di alcuni settori pubblici che è bene, ripeto, che restano pubblici, l'unica cosa che va eliminata appunto non è il pubblico ma è la corruzione all'interno del pubblico, lo vediamo quotidianamente lo stiamo vedendo quotidianamente con scandali su scandali, io ultimamente come battuta arrivo alla Camera dei Deputati per il Transatlantico e se incontro qualche collega dei vari partiti da destra a sinistra, ultimamente soprattutto Piddini, gli chiedo se oggi hanno arrestato qualcuno, qualcuno ride, altri sbiancano perché evidentemente hanno letto delle agenzie e in effetti hanno arrestato qualcuno, qualcun altro ironico dice la giornata è ancora lunga e succede questo quotidianamente perché la corruzione si è infilata dovunque e si è infilata anche in Alitalia, vedremo i procedimenti in atto, vedremo quelle operazioni, se sono state chiare vedremo che cosa fece quel governo Berlusconi quando assegnò ai soliti amici degli amici un'azienda gloriosa e chissà se qualcuno non ci abbia guadagnato in maniera illecita, vedremo perché poi tante denunce che sono state fatte negli ultimi anni purtroppo si trasformano sempre in realtà. Questo è il Movimento 5 Stelle, io ringrazio appunto tutti quanti voi per partecipare, anche voi che avete fatto questi documentari e ripeto da parte nostra siamo una forza d'opposizione, momentaneamente l'opposizione, siamo assolutamente disposti a continuare le battaglie, a prendere delle decisioni assieme e a sostenere ripeto i lavoratori che sono qui presenti perché come diceva in precedenza Alessandro i privilegi sono quelli che ce l'ha qualcun altro che magari avrete incontrato oggi entrando a casa vostra la Camera dei Deputati e non certo i dipendenti di Alitalia. Grazie a tutti.